Prima di tutto, che cos'è un animale? Un animale è un organismo pluricellulare eucariota eterotrofo, quindi costituito da più cellule e eucariote che hanno il nucleo e che non si producono il cibo da soli come fanno le piante con la fotosintesi, ma che lo devono ricavare dall'ambiente esterno. Gli animali si nutrono ingerendo cibo e hanno una digestione interna, cosa che, ad esempio, non avviene nei funghi. I funghi si differenziano dal mondo animale perché hanno una digestione esterna al corpo. La superficie digerente è esterna al fungo. Le cellule animali sono prive di pareti e sono tenute insieme da proteine strutturali extracellulari che costituiscono anche giunzioni tra cellule. Una caratteristica di molti animali è quella di avere un sistema nervoso e muscolare per il movimento e la trasmissione di impulsi elettrici, cosa che invece non abbiamo né nei funghi né nel mondo vegetale. Gli organi di senso sono spesso posizionati vicino al sistema nervoso centrale, questo per ottimizzare la percezione dell'ambiente esterno e la rapida risposta che l'animale può avere con esso. La maggior parte degli animali si riproducono in modo sessuato, ovvero abbiamo che due individui di sesso opposto mescolano il loro codice genetico per generare un nuovo individuo con un codice genetico unico. Tutte le cellule somatiche animali sono diploide, quindi costituite da due versioni per ogni gene, uno da parte materna e uno da parte paterna. Abbiamo già visto questo concetto nelle lezioni precedenti e solamente i gameti sono cellule haploidi che hanno una versione per ogni gene. Il gamete femminile è l'ovulo, quello maschile è lo spermatozoo, quando durante la fecondazione si uniscono, formano la prima cellula che genererà il nuovo individuo. La combinazione dei codici genetici di due individui di sesso opposto genereranno un figlio con codice genetico unico. Mentre ovulo e spermatozoo sono cellule haploidi, lo zigote è la prima cellula diploide del nuovo individuo, nel caso esseri umani, del bambino. Quando lo zigote si forma comincia la replicazione formando la morula e poi la blastula. Lo zigote quindi si divide tramite il processo di mitosi, quindi facendo copie esatte di se stessa formando dapprima un ammasso di cellule chiamato morula che poi si organizza a formare la blastula che ha una struttura interna cava prima di un liquido chiamato blastocele. In questa animazione vediamo i vari passaggi dalla fecondazione dei due gameti nello zigote fino alla formazione della morula per poi arrivare alla formazione della blastula e del blastocele. Qui vediamo ancora uno schema che sintetizza i vari passaggi. Quando la cellula uovo viene fecondata dallo spermatozoo abbiamo la formazione dello zigote che è la prima cellula diploide del nuovo individuo. Tramite replicazioni mitodiche abbiamo il primo ammasso di cellule che si chiama morula e qui vediamo la formazione con cui per mitosi abbiamo la replicazione di queste cellule fino a che queste vadano a formare la blastula ovvero questa struttura con cavità interna che poi andrà a svilupparsi nell'embrione. Nella cavità interna abbiamo alcune cellule che poi come vedremo daranno origine a diversi tessuti. Qui vediamo lo svolgimento e l'evoluzione di questa blastula che col tempo comincia ad avere un insaccamento verso l'interno. Infatti la gastrola subisce un processo di trasformazione si sviluppano diversi strati cellulari chiamati fogliette embrionali che formeranno diverse e specifiche parti dell'animale. Ad esempio lo stato esterno chiamato ectoderma formerà il rivestimento esterno dell'animale quindi la pelle, la pelliccia, i capelli nel caso degli esseri umani, le unghie mentre lo strato interno chiamato endoterma rivestirà il tubo digerente. Poi abbiamo uno strato intermedio non tutti gli animali lo hanno chiamato mesoderma questo svilupperà i muscoli e molti altri organi interni. In questa immagine che mostra l'evoluzione della gastrola chiamata appunto processo di gastrolazione vediamo l'ectoderma, lo stato esterno l'endoterma, lo stato interno e poi anche lo sviluppo di cellule che daranno origine allo strato intermedio, il mesoderma. E, come già detto, non lo troviamo in tutti gli animali. Lo sviluppo della gastrola chiamato anche gastrolazione comprende l'invaginamento della parte posteriore della gastrola creando questa cavità interna che sarà di fatto la superficie interna del sistema digerente. Quindi vediamo già alla fine della gastrolazione il foglietto embrionale esterno chiamato ectoderma lo sviluppo del foglietto embrionale interno, l'endoderma che riveste la sacca interna formatasi per l'immaginazione della gastrola e poi, come già detto, non in tutti gli animali ma nella maggior parte alcune cellule andranno a formare uno stato intermedio chiamato appunto mesoderma che darà origine poi a muscoli e molti altri organi interni. Molti animali sviluppano già un embrione formato come qui possiamo vedere nel caso del pulcino ma avviene anche negli esseri umani. In altri animali invece l'individuo deve passare per una fase larvale prima di diventare adulto dove alla fine della quale ci sarà una trasformazione completa dell'individuo e una riorganizzazione dei tessuti a creare una forma adulta completamente diversa dalla fase larvale e questo processo lo vediamo benissimo negli insetti. Questo è solamente un estratto della lezione completa sugli animali. Nella lezione completa vedremo che cos'è un animale spiegherò come sono stati classificati in base alle loro caratteristiche anatomiche quindi tutto l'albero filogenetico della vita sulla Terra facendo una panoramica su tutti gli invertebrati e poi in gran dettaglio sul gruppo dei vertebrati. Potete trovare questa lezione la numero 9 di biologia sugli animali e tutto il corso sul mio canale YouTube e sulle mie pagine social Prof Antonio Loiacono. Grazie Grazie